Il gilet riscaldato P&E Body Wormer mantiene il calore a lungo con l'aiuto delle 5 zone di riscaldamento, 2 nella parte anteriore e 3 nella parte posteriore. Nella tasca sinistra si trova il cavo USB per alimentare il gilet da una batteria esterna. È possibile modificare il livello di riscaldamento premendo il pulsante LED sul lato sinistro del torace. Ci sono tre livelli di riscaldamento indicati tramite dei colori, rosso il più caldo, bianco livello medio e blu meno caldo. Al livello rosso il gilet produce un calore di 65 gradi centigradi. Al livello bianco produce un calore di 55 gradi centigradi e il livello blu uno di 45 gradi centigradi. Il gilet è realizzato in neoprene e poliestere che garantiscono comfort e una piacevole sensazione al tatto.